CECAM, cavi e conduttori elettrici e telefonici. CECAM, cavi e conduttori elettrici e telefonici. Bienno in provincia di Brescia, via Morandini 1. La CECAM, conduttori elettrici Camuni, presente sul mercato da oltre 30 anni, è una dinamica e moderna azienda che si occupa della produzione e commercializzazione di cavi elettrici isolati in PVC. Utilizzati dall'industria nazionale ed internazionale, i cavi CECAM entrano come componenti importanti ed essenziali di macchinari ed attrezzature ad alta resa tecnologica. La gamma dei prodotti offerti è molto ampia e comprende, tra gli altri, diverse tipologie di cavi a marchio IMQ, HAR e Hull. Opera in una struttura nuova, funzionale ed ergonomica, tale da garantire sicurezza nel rispetto delle direttive della comunità economica europea. La produzione utilizza macchinari automatizzati all'avanguardia, supportata da una rete computerizzata che, esplorando tutto il ciclo, pianifica e controlla la qualità e lo stato di avanzamento del prodotto. La certificazione UNI EN ISO 9001-2000 del proprio sistema qualità testimonia la serietà e l'organizzazione dell'azienda. Scegli competenza, cortesia, professionalità. Rivolgiti a CECAM.